Ora parliamo di una delle più importanti figure storiche del XIX secolo italiano. E del suo incantevole castello immerso nei vigneti del Chianti tra Siena e Firenze. Siamo a Brolio, a fare visita alla residenza di Bettino Ricasoli, il Barone di Ferro. Bettino Ricasoli, un uomo dal carattere d'acciaio. A 18 anni dopo la morte dei genitori, amministra ed espande il patrimonio familiare. Fa carriera anche in politica, succedendo a Cavour come presidente del Consiglio del Regno d'Italia appena unificato. Ma la sua grande passione è il vino. Da imprenditore agricolo, conduce degli studi che lo portano alla formula di quello che ancora oggi conosciamo come Chianti Classico. I contadini hanno per lui un rispetto che arriva fino alla reverenza. e proprio loro raccontano gli inquietanti episodi del funerale del Barone. La maggiore, all in black, mourn il Barone. La light of the candles trembled. It burnt out. Nothing but the night of Brolio remained. Four men, made strong by the work of their hands, were breathless, trying to heave on the coffin of the Baron. Heave on, heave on, one said. They looked round, endeavoured, cursed. They gave up. Strani fatti avvengono al funerale di Ricasoli. La bara è prima pesante, come se contenesse pietre. E poi... A priest came, and pronounced the ancient words in Latin that only the dead can comprehend. Then he stated, Try now, men. The coffin is weightless. Now it is weightless. And it was. I contadini raccontano che il feretro non è condotto nella cappella di famiglia, ma in un dirupo chiamato il Borro dell'Ancherona. Un luogo che si guardano bene dal frequentare, perché è lì giurano che di notte appare, alto sul suo cavallo, lo spettro del Barone. The Baron is not tired yet. He patrols his land, followed by a suite of fierce dogs, loudly laughing, all dressed in black. He smashes the dishes in the kitchen. He wakes the peasants up in the middle of the night, freezing the blood in their veins. persino un giornalista della Domenica del Corriere scriverà di essersi imbattuto nel fantasma del Barone di Ferro. «There is no safe shelter after dusk. At any moment, the Baron's flaming red eyes may appear out of the dark». Il Barone terrorizza i contadini, al punto che in molti vanno via e quelli che rimangono gli dedicano una messa ogni domenica per cercare di tenerlo buono. «The Baron's flaming red eyes may appear out of the dark». «A Brolio tutti giurano di aver visto la sua terribile figura almeno una volta nella vita. Tuttavia, dopo gli anni settanta, le sue apparizioni diventano rare, fino quasi a scomparire. «In a while, it will be vintage time in Brolio. In the vineyards, the peasants will daydream of women and wine. Old men will whisper ancient tales in the ears of the young. Once again, they will attempt to awake the Baron from his sleep. For a glance, a grin, a last word on the harvest». L' toystone plays in the關 le vi de l'agro di periferie «Tell'agress